Ho la presunzione, dopo aver visto circa 20.000 pazienti affetti da osteoporosi e da fratture e da fragilità, di dire qualche cosa che vi possa essere utile invece oggi e devo ringraziare tutti i miei pazienti negli anni che mi hanno insegnato tante cose intanto a comunicare su questo settore, soprattutto con la gente che vuole avere delle risposte che siano facili da comprendere e che offrano delle soluzioni. Intanto definiamo il problema dell'ostoporosi. Che cos'è l'ostoporosi? Se ne parla da tanti anni e forse questo l'avrete anche capito voi e vi sto ripetendo dei concetti che avete letto e sentito. L'ostoporosi è una situazione di diminuzione della resistenza ossea. Non la vorremmo chiamare nemmeno una malattia ma è una condizione che potremmo chiamare anche parafisiologica in certe condizioni. Per esempio la perdita di massa ossea che noi abbiamo con l'avanzare degli anni è una perdita di massa ossea che si accompagna al processo di invecchiamento. è che purtroppo questa condizione di ridotta massa ossea e di ridotto minerale a livello dell'osso ci porta inersorabilmente con l'aumentare della nostra sopravvivenza che è il grande goal che è stato raggiunto nel mondo attraverso anche l'uso dei farmaci e la medicina moderna e tutti quelli che sono poi i presidi e gli interventi chirurgici e la prevenzione che è stata messa in atto in realtà questa riduzione della resistenza ci porta inesorabilmente ad avere la malattia. Qual è la malattia che è legata all'ostoporosi? È la frattura che noi definiamo frattura da fragilità. Quindi l'osteoporosi è una condizione di ridotta quantità del nostro osso che ora non riesce più a resistere a traumi minori per esempio un movimento brusco, sollevare un peso che per noi non era un peso così eccessivo nel passato oppure cadere dalla stazione retta o da seduti e rompersi un segmento osseo. Questo non è mai qualche cosa che doveva accadere perché sono caduto male. Quando noi cadiamo da un'altezza che appunto è la posizione retta oppure quando siamo seduti noi non abbiamo un'altezza efficiente, diciamo sempre che quello non è un trauma efficiente per romperci magari l'avambraccio. Invece ci siamo rotti l'avambraccio per noi è normale perché siamo caduti male. No, non siamo caduti male, è che il nostro osso è fragile. E questo con l'avanzare degli anni è un processo cui noi assistiamo e che naturalmente vogliamo marginare non perché vogliamo non fare invecchiare le persone e cercare di rallentare il processo di invecchiamento per un motivo puramente estetico, ma perché le fratture sono una malattia vera e propria e naturalmente hanno delle conseguenze che porteranno il paziente a soffrire di problemi che sono per esempio i problemi legati alla incapacità di fare alcune funzioni che erano normali prima. Quindi l'osteoporosi definiamola come una condizione di fragilità. La frattura da fragilità, quindi quella che avviene in un osso che non è così resistente è invece la vera e propria malattia e è su quello che noi vogliamo agire e tutto quello che è stato fatto negli anni in termini di prevenzione in realtà ha proprio come scopo finale, come gol finale, quello di non far fratturare più le persone o comunque di allontanare questo processo fratturativo molto lontano nel tempo. Spesso si dice che l'osteoporosi è un'invenzione dell'industria farmaceutica che vuole vendere farmaci ma questo non è vero. Certo che l'osteoporosi negli anni in cui le persone morivano a 60 anni non era un problema così emergente. Il problema dell'osteoporosi emerge nel momento in cui in realtà aumenta la nostra sopravvivenza e quindi in maniera paradossale l'aumentare della sopravvivenza fa emergere le malattie che prima noi non conoscevamo, comunque non consideravamo, comunque non erano malattie di impatto sociale così importante. Perché l'impatto infatti è importante di questa condizione di fragilità? Perché noi abbiamo oggi un milione di uomini circa in Italia e circa 3 milioni di donne quindi parliamo di milioni di cittadini italiani che hanno una condizione di fragilità documentata. Documentata come? Perché questa è l'altra domanda che ci viene spesso posta. Come si fa a sapere che io ho l'osteoporosi? Ma intanto l'osteoporosi fu definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche decina di anni fa come una condizione di riduzione della massa minerale che poteva essere misurata attraverso strumenti che si chiamano densitometri. E i densitometri ossei sono quelli che ci permettono appunto di valutare il valore di densitometria ossea del nostro scheletro. Noi oggi abbiamo delle macchine che sono molto avanzate e che rappresentano quelli che noi chiamiamo i gold standard, lo standard d'oro, lo standard d'eccellenza per la misurazione della massa ossea che sono proprio le macchine che noi chiamiamo DEXA, che sono quelle che ci misurano la densità minerale ossea a livello di avambraccio, di femore, di colonna vertebrale e anche a livello di tutto lo scheletro, quello che noi chiamiamo esame total body. Attraverso queste misurazioni noi sappiamo se il numero che poi emerge dalla misurazione corrisponde a un numero che ci definisce come normali, ci definisce come osteopenici e ci definisce come osteoporotici. Quel numero che noi chiamiamo STISCOR, che è un numero che definisce la nostra densità minerale ossea, se è meno 2,5 vuol dire che noi siamo nella categoria dei pazienti osteoporotici. Quindi se noi dobbiamo fare diagnosi di osteoporosi, dobbiamo usare strumenti che definiscano la nostra densità minerale ossea. Poi noi possiamo anche fare altre valutazioni, che sono per esempio la valutazione del mio metabolismo osseo, perché l'osteoporosi cosa è in realtà? È un'alterazione del metabolismo osseo. L'osteoporosi fa parte delle malattie metaboliche dell'osso, perché l'osso è un tessuto che si rinnova continuamente in tutta la nostra vita e noi continuamente riassorbiamo e formiamo osso. Quindi esistono delle squadre di distruttori che sono le cellule osteoclastiche, delle squadre di costruttori che sono le cellule osteoblastiche e in questo processo continuo di distruzione e costruzione noi manteniamo la nostra massa minerale ossea. Se però questo processo non è accoppiato uno a uno e per esempio io ho un aumento del riassorbimento osseo, io tenderò a perdere più massa ossea di quanto ne forma. È quello che succede per esempio dopo la menopausa quando mancando gli estrogeni che sono tonici inibitori del riassorbimento osseo noi cominciamo a riassorbire l'osso furiosamente e non ne formiamo quanto ne riassorbiamo e per questo perdiamo massa minerale ossea. Questo è il metabolismo osseo e il metabolismo osseo a differenza della misurazione della densità minerale ossea che misura in quel momento il risultato di tutta la nostra vita precedente il metabolismo osseo noi lo misuriamo in quel momento e ci permette di capire se il nostro osso tende a essere più riassorbitivo quindi c'è un eccesso di riassorbimento oppure per esempio meno formativo perché le cellule che formano sono colpite da qualche deficit o da qualche danno che per esempio potrebbe essere causato anche da farmaci immaginiamo i cortisonici che vengono utilizzati vanno proprio a inibire le squadre delle cellule formatrici osse e allora noi fotografiamo quel momento non il risultato di tutta la vita per questo nella diagnosi dell'osseoporosi dobbiamo introdurre un po' come tutte le malattie del metabolismo non soltanto la misurazione di un evento che è il risultato del passato ma anche di quello che quel paziente è in quel momento e questo ci permette anche di usare in maniera più appropriata come vedremo successivamente i farmaci osteoformativi ed i farmaci antiriassorbitivi che sono i farmaci che noi oggi abbiamo a disposizione per la prevenzione delle fratture da fragilità quindi intanto la diagnosi noi la facciamo sia dal punto di vista clinico perché visiteremo il nostro paziente della sua storia personale della sua storia familiare ma soprattutto attraverso la misurazione densitometrica che ci definisce il paziente se osteoporotico o meno e metabolica ci sono degli esami metabolici che noi oggi possiamo misurare come la fosfatasi alcalina la calcemia, la fosforemia poi ci sono esami di secondo livello che noi potremmo andare a chiedere nel paziente che saranno il paratormone la misurazione dei livelli circolanti di vitamina D noi potremmo voler misurare il calcio e il fosforo nelle urine delle 24 ore esistono parametri di riassorbimento uno che si chiama CTX che oggi viene misurato nel siero quindi dobbiamo sapere che esiste anche questa possibilità e soprattutto il nostro medico deve sapere quali sono gli esami che devono essere richiesti e di interpretarli esiste poi anche un'altra valutazione diagnostica che noi possiamo fare che è quella attraverso quello che è il peso del nostro rischio di fratturarci perché noi abbiamo in funzione di molti fattori una possibilità di fratturarci a 10 anni come è stato valutato la carta di rischio cosiddetta dell'osso porosi un po' mimando quella che era stata fatta per le malattie cardiovascolari noi l'abbiamo anche per l'osso porosi e questa carta di rischio ci dice quale rischio abbiamo di fratturarci nella carta di rischio è evidente che è inclusa anche la densitometria ossea perché è un parametro che ci dice quanto minerale abbiamo nell'osso ma noi potremmo avere pazienti che per esempio non hanno una bassa densità minerale ossea da osteoporosi ma si fratturano per fragilità perché? perché esistono altri fattori di rischio e la carta di rischio include i maggiori fattori di rischio per esempio la familiarità perché noi ereditiamo dai nostri genitori un osso che è qualitativamente diverso un po' come la nostra altezza lo spessore dei capelli, della cute la forma dei nostri occhi noi anche la struttura dell'osso la ereditiamo dai nostri genitori quindi se nella nostra famiglia ci sono state delle fratture da fragilità soprattutto delle fratture di femore diagnosticate e dobbiamo sempre essere un pochino più attenti per i nostri bambini, per i nostri adolescenti per le donne in gravidanza, per l'adulto e senza altro per noi come persone anziane quindi il concetto di rischio è un concetto che oggi noi possiamo pesare attraverso un questionario che ci chiederà per esempio se usiamo farmaci cortisonici o li abbiamo usati nella nostra vita per periodi prolungati se i nostri parenti hanno avuto delle fratture da fragilità se non introduciamo sufficienti quantità di calcio con la dieta se abbiamo avuto una menopausa precoce se abbiamo una malattia infiammatoria articolare come l'artrite reumatoide e quanti anni abbiamo? perché noi a parità di massa ossea la stessa massa ossea di meno 2,5 a 50 anni non è come la massa ossea di meno 2,5 a 80 anni il rischio di fratture alce aumenta con la nostra età e allora questi sono tutti i concetti che il nostro medico deve conoscere e deve somministrarci questa carta di rischio che oggi anche i medici di medicina generale utilizzano e che ci permette di sapere che rischio abbiamo sulla base del nostro rischio poi il medico potrà decidere come intervenire dal punto di vista di prevenire le fratture da fragilità ma come vedete in realtà gli strumenti oggi ci sono tutti per leggere questa condizione è che spesso è l'accessibilità a queste diagnostiche che diventa difficile non è definita sempre bene però oggi abbiamo nel nostro paese i cosiddetti LEA ai livelli essenziali di assistenza che ci dicono quando deve essere fatta la densitometria ossea che noi chiamiamo poi mineralometria ossea computerizzata cioè abbreviato in MOC e sappiamo oggi che da una certa età in poi non dobbiamo farla per esempio dopo i 65 anni oppure anche prima se abbiamo dei fattori di rischio è il nostro medico che decide quando la densità minerale ossea deve essere misurata sulla base dei LEA che ci permettono poi di avere rimborsato l'esame attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e certamente per chi vuole sapere di più di osteoporosi oggi esistono anche tanti siti che potete visitare tante informazioni che potete avere che potete richiedere noi come Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Oso Fondazione Firmo abbiamo inserito all'interno del sito di Fondazione Firmo informazioni che sono importantissime per voi che potete scaricare esiste per esempio il questionario sulla introduzione di calcio con la dieta perché se non introduciamo abbastanza calcio con la dieta non riusciamo a mineralizzare lo scheletro perché il calcio insieme al fosfato sono due importanti ioni che costituiscono il nostro cristallo minerale osseo che è l'idrossiapatite quindi voi avete possibilità oggi di accedere ad informazioni che sono per voi importanti e che poi oggi potete avere sicuramente anche implementate attraverso gli stand che sono qui presenti all'interno di Cosmo Senior per potervi dare l'opportunità della misurazione della densità minerale ossea di avere informazioni alimentari di valutare la vostra carta di rischio e soprattutto di sapere dove andare a cercare queste informazioni per il futuro quindi io sono certa che quella attività che abbiamo iniziato con Signori in Italia alcuni anni fa e che sta continuando porterà sicuramente anche a livello della popolazione Signori in Italia un'accessibilità a un'informazione giusta corretta ed etica che vi permette di sapere di più del vostro problema grazie a tutti